L'Associazione Cosmo Storie gestirà il Museo del Gusto e delle Tradizioni Popolari di Buon Vicino fino al termine del 2016, prorogata dal Comune Altotirrenico la convenzione con l'Associazione di Volontariato che ha dato la propria disponibilità a proseguire nel percorso finora intrapreso. Obiettivo rendere attivo il museo che ha appena compiuto due anni dalla sua inaugurazione, accogliendo i visitatori e fornendo le informazioni storiche e culturali di buon vicino, oltre alla diffusione degli eventi organizzati. Il museo, infatti, è un grande contenitore di patrimonio di conoscenze e di storia locale, in cui il passato si lega perfettamente al presente con un apparente disordine in cui nulla è lasciato al caso o è fine a se stesso. L'amministrazione comunale, grazie alla Cosmo Storie, potrà portare avanti la gestione della struttura evidenziando le realtà culturali del territorio, proponendo attività culturali e quindi realizzando nel MAGB eventi di carattere socioculturale. In questo modo si potrà valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei tesori storici presenti all'interno del museo, anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e altre associazioni culturali. In particolare, i più piccoli potranno scoprire quelli che sono stati i mestieri più fortunati nell'antico villaggio, dal calzolaio al falegname, dal fabbro alle lavoratrici del baco da seta, proseguendo in quegli oggetti più particolari e sacrali che costituivano comunemente l'arredo ecclesiale, quali navette porta incenso e sequelli con aspensorio. Si tratta in ogni caso di una collaborazione volontaria da parte dell'associazione alla quale il comune di Buonvicino offre un rimborso spese di circa 600 euro. Investire in cultura, dunque, una strada sempre più seguita e che il borgo altotirrenico ha imboccato da tempo. Grazie per la visione!